Ma non esiterò a sparare se non mi dai altra scelta. Che stai facendo? Tu sei uno di noi. Non puoi tradire la tua gente. Tu vieni con me! Sei Connor, vero? Il famoso cacciatore di devianti. Beh, congratulazioni. Sei riuscito a trovare quello che stavi cercando. La nostra causa è giusta e siamo più di quello che dicono. Vogliamo solo vivere liberi. Non ti capita mai di avere dei dubbi. Non hai mai fatto niente di irrazionale. Come sei spinto da qualcosa. Qualcosa oltre il tuo programma. Non ti è mai capitato di chiederti chi sei. Sei solo una macchina che esegue un programma o una persona capace di pensare. Forse è il momento che anche tu cominci a farti delle domande. A te la scelta. So, così, qui sta伸 colchendio a farti delle domande. Caci aud holocanto ogni durante un giorno e tutti invece anche iutchori. Unite sal замечare. Caci in Whats�ine Ulcrima Unite sal strong Attaccheranno Jericho Cosa? Dobbiamo andarcene Merda Che succede, cara? Presto, dobbiamo andarcene Forza, via, via, via A presto, robusto Detta i diritti e80 La vostra posizione Mi tope in trappola presto cara, arrivano il corrido è raggiunto, seguimi di qua, presto di qua, deve esserci un'uscita più avanti dentro, presto attenta cara arrivano da ogni parte, i nostri sono nella stiva, li massacreranno ci sono usciti al secondo e terzo ponte trovatele, saltate nel fiume arrivano anche dal ponte superiore, non c'è modo di evitarli, dobbiamo scappare, non possiamo fare altro, dov'è Simon e Josh? non lo so, ci siamo divisi dobbiamo far saltare Jericho se la nave affonda dovranno evacuare potremo fuggire, è una follia gli esplosivi sono in fondo alla stiva ci sono soldati ovunque ha ragione, sanno chi sei ti prenderanno comunque aiuta gli altri, io vi raggiungerò Marcus non ci vorrà molto questa è la fine di Jericho salva la nostra gente, Marcus quadra post-trop, nemigli abitati sentiamo il non fatelo scappare affermativo, chiaro troppo tardi, cara, mettiti in salvo salva Erich no, non ti lasceremo indietro giusto, cara, non possiamo che stai facendo? non ti abbandono cara, no non muoverti non avresti dovuto farlo non puoi mettere Elis in pericolo ora andate prima che tornino e tu? cosa farai? me la caverò Elis è ciò che conta non voglio lasciarti, Luder non temere vi raggiungerò al confine ok? ora andate abbiate cura di voi la sole morirà, cara apri, apri la porta stai bene, cara? sì, io sto bene non possiamo stare qui l'altro ne sono altri seguitemi non posso stare qui non possiamo stare qui e non posso stare qui Grazie a tutti.